Un momento davvero difficile, quello che sta patendo l'economia italiana, ma parliamo in particolar modo dell'economia tarantina, dei ritardi che ci sono stati per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il famoso Cura Italia, e ci sono quindi parecchie zone buie, detto apertamente, per esempio tanti cassi integrati non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, parliamo del mese di marzo, tante partite IVA non hanno ricevuto le 600 euro, sempre del mese di marzo. Una situazione di profonda sofferenza, il piatto piange. Vogliamo parlare di questo e di altro con Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. E allora, Paolillo, il giudizio su questi interventi di Stato alla luce di questi ritardi. D'altronde lo stesso Premier Conte si è scusato, però le scuse non riempiono la pancia. Certamente ci troviamo di fronte a una situazione che non ha precedenti, da ogni punto di vista, sia dal punto di vista dell'emergenza sanitaria che alle conseguenze di questa emergenza sanitaria, che è l'emergenza economica. Ovviamente, parlando del nostro territorio, ci troviamo di fronte a un'emergenza che si somma a una tafica emergenza e crisi che già il territorio tarantino viveva dagli ultimi vent'anni. Una crisi derivante da un fermo della grande industria, un fermo economico proprio, dal punto di vista della produzione, non solo per un fatto ambientale, ma anche per un fatto di mercato di acciaio. È evidente che tutto questo ha fatto sì che il tarantino potrebbe scoppiare da un momento all'altro una sorta di tempesta perfetta, perché le due forti crisi che si sommano possono lasciare diverse conseguenze negative sul territorio. Hai fatto riferimento agli strumenti messi in campo dal governo? Dobbiamo dare atto che sono strumenti di emergenza, pensati in quel momento, grossi numeri, ovviamente. Si è dovuto far fronte a una grandissima richiesta di sussidi, certamente poteva essere gestita meglio. Secondo me non dal punto di vista tecnico, perché dal punto di vista tecnico possiamo intuire le complessità di gestione da parte ovviamente dell'ente, dell'Inps, delle regioni, però secondo me poteva essere gestita meglio dal punto di vista della comunicazione. Perché dal punto di vista della comunicazione, se si diceva chiaramente al cittadino che comunque si doveva aspettare, che comunque doveva avere pazienza, forse era meglio aver detto 50 miliardi qua, 50 miliardi là, 200 qua, 200 là, poi il cittadino giustamente non si vede arrivare i soldi e si sente preso in giro. Questo vale sia per il lavoratore dipendente che il cassa integrato, che per il bonus delle 600 euro, che per le patitaive, che ovviamente come confartigianato non possiamo che prendere un attimino col sorriso, come se 600 euro fossero sufficienti a garantire la sopravvivenza di una famiglia, di un artigiano, piuttosto che di un commerciante al quale è stato chiesto il sacrificio di stare chiusi. Capiamo sempre il fatto dell'emergenza, però secondo me, visto che poi le potevi dare 800, partire già con 800 sarebbe stata una ferita minore, anche a livello psicologico e di dignità per il fruitore. Paolillo, andiamo alla situazione di Taranto. La viviamo io come operatore dell'informazione, lei come responsabile di una organizzazione di categoria, e c'è la realtà triste, non vogliamo essere, come dire, Cassandre, profetesse di sventure, che molte attività purtroppo non rialzeranno, non riapriranno più la Sara Cinesca, perché si è creata, si creerà meglio una situazione insostenibile. Faccio un esempio, ci saranno grosse difficoltà per i ristoratori, perché è giusto che ci sia il distanziamento sociale, ma il distanziamento sociale comporta una diminuzione dei coperti, e quindi la diminuzione dei coperti comporta la diminuzione delle entrate, la diminuzione delle entrate comporta i licenziamenti, la riduzione del personale. È un discorso matematico, logico. E allora ecco che, per esempio, io ritengo che in questo modo anche le amministrazioni locali debbano andare incontro alle esigenze degli imprenditori, dei titolari, che so io, facciamo un esempio, una disponibilità molto ampia di occupazione di suolo pubblico senza farlo pagare, perché a un bar che ovviamente ha la maggior parte della sua attività, dei suoi posti a sedere all'interno, il bar in queste condizioni è spacciato. Viceversa, se a un bar, a un ristorante, gli si dà una maggiore aria su cui mettere i tavolini distanziati l'uno dall'altro di due metri, beh, si recuperano dei posti, dei coperti. Quindi voglio dire, il governo diciamo che fa la sua parte, diciamo, più a parole che nei fatti, anzi proprio a parole più che nei fatti. Però ecco l'appello in questo senso all'amministrazione di andare incontro alle esigenze, di eliminare quella che è la burocrazia, quelli che sono i formalismi e dare effettivamente un ristoro concreto a chi viceversa sarebbe costretto a chiudere per sempre. Beh, Luigi, hai colto più temi molto importanti e tra l'altro concreti. È evidente che questa emergenza lascerà dei segni per molto tempo su diverse attività. molti settori saranno costretti e sono già costretti a cambiare il loro stile lavorativo e anche proprio le loro modalità lavorative. Hai fatto giustamente esempio dei ristoratori dove, io non credo che qua queste misure possano essere tolte nell'arco di 4-5 mesi, qua si parla di misure che resteranno per un bel po' di tempo e che forse rimarranno quasi per sempre, visto che si faranno degli investimenti per farle. bisogna innanzitutto puntualizzare che ci sono state delle categorie lavorative dei settori economici ai quali ci è stato chiesto veramente un enorme sacrificio e tra l'altro hanno cominciato per primi. Mi riferisco, come dicevi tu, al campo della ristorazione, ma c'è tutto il sistema del benessere, quindi i parrucchieri, le estetiste, che dal primo giorno delle emergenze, quindi da quel famoso 11 marzo, hanno dovuto chiudere le loro attività e ancora non le hanno potute riaprire. Ovviamente i protocolli di sicurezza e i protocolli sanitari che si stanno studiando, che si stanno pubblicando contengono delle evidenti caratteristiche di riadattamento delle attività, cioè le postazioni di lavoro, i tavolini, non potranno essere più disposti come prima. È evidente che se un ristorante ha 100 coperti, è molto probabilmente che quei coperti li dovrà ridurre del 70%, non del 30%, cioè se sono quelle le misure che stiamo sentendo. È evidente che se io ho 4 poltrone per l'acconciatura, forse ne devo avere 2. E quindi è anche il livello occupazionale che verrà ridotto, di conseguenza non può essere altrimenti. E quindi il sacrificio è enorme e siamo molto preoccupati. Però sai, nei momenti brutti, nei momenti oscuri, terribili che abbiamo passato, dobbiamo anche evidenziare dei fatti positivi. E i fatti positivi sono che tutte le amministrazioni comunali, parliamo del nostro territorio, quindi tutti i sindaci, hanno dimostrato davvero molta sensibilità, anche se all'inizio hanno iniziato a prendere provvedimenti in modo monocratico, nel senso senza ascoltare, però dopo poi hanno capito, e soprattutto nella programmazione della fase 2, a cominciare dal comune capoluogo, quindi dal sindaco Melucci, ha inteso coinvolgere, quindi questo gli viene dato atto, coinvolgere tutte le rappresentanze delle categorie, facendo delle riunioni di settore, ascoltando, prendendo nota, dandoci delle risposte. E quindi questo è un nuovo metodo che anche questo credo che non possa poi cambiare rispetto al... per il futuro. E quindi questo, diciamo, è uno degli aspetti positivi che nella disgrazia abbiamo avuto. Ovviamente questo meccanismo, che sia bianchiaro, lo dico in modo molto pacato, ma determinato, deve vedere allo stesso modo protagonisti anche le associazioni di categorie, perché devono cadere determinati steccati, devono cadere determinate barriere, si deve ritornare a parlare, tutti, tutti insieme, basta schieramenti, basta polemiche, cioè in questo momento di tutto c'è bisogno, tranne che la divisione. Chi sono io e chi sei tu, non serve, non serve neanche il troppo protagonismo di qualcuno o qualcuno che, insomma, si fa sempre tre passi avanti per farsi vedere. No, non serve. Dobbiamo parlare tutti insieme e agire tutti insieme, trovare unità, perché questa unità favorisce e agevola poi chi deve decidere, che sono i politici e la pubblica amministrazione. Questo deve avvenire in ogni campo, quindi nel settore dell'amministrazione pubblica, nel settore della canale di commercio, in provincia, in prefettura, ovunque. Io però devo fare alcune riflessioni. Purtroppo il lockdown è stato necessario, anche perché non siamo un paese come la Svezia che sa autogestirsi, che sa autodeterminarsi. Beh, quelli sono paesi nordici che hanno una educazione e un senso civico ferreo che noi mediterranei purtroppo non abbiamo. Però io faccio questo ragionamento. Verso determinate categorie si poteva, come dire, allentare la presa. I negozi che vendono generi alimentari, per esempio i supermercati, era giustissimo che rimanessero aperti, ci mancherebbe alto, i panifici. Ma dico anche il bar, con il distanziamento sociale, consentire alle pizzerie, ai ristoranti, non solo nella fase calda il servizio a domicilio, ma anche proprio l'asporto stesso. Perché che differenza c'è tra mettersi in fila per comprare i generi alimentari a un supermercato e mettersi in fila davanti ad un ristorante, davanti ad una gastronomia, per ritirare i propri piatti, il proprio pacchetto, chiamiamolo così, di cibo. Lo stesso dico anche per altre categorie di artigiani. Penso per esempio ai parrucchieri. Beh, con un certo ordine, facendo entrare uno alla volta, magari anche su prenotazione, così come si dovrebbe fare dal primo giugno, beh, avremmo dato, quantomeno ristoro, un po' di ossigeno a queste categorie. Ecco, alcune cose non mi sono piaciute, così come concordo con la posizione di confartigianato per quanto riguarda quella discriminazione che è stata fatta nei confronti dei pasticceri. Ovviamente, nel momento in cui parliamo oggi, è un po' più semplice, ci troviamo al 6 maggio, è evidente che la situazione, insomma, siamo nella fase 2, quindi nella fase della riapertura. Non dimentichiamoci i giorni tristi e drammatici di marzo e di metà aprile, insomma. È evidente che il governo, e meno male che lo ha fatto, anche se un po' in ritardo, si è messo nelle mani dei medici, degli scienziati, degli esperti, dei virologi. È evidente che loro hanno ritenuto che determinate categorie potevano essere più a rischio di procurare contagio rispetto ad altri. In questo campo non entro, perché non abbiamo la preparazione o la capacità di discernere da questo punto di vista, ma è evidente che nella fase di ripartenza c'è qualcosa che però non ci è piaciuto. Nel senso che molto spesso si fa il paragone perché fare entrare 16 o 20 persone in un bus e non una persona che si fa i cappelli alla volta. Anche lì ci sono cose che non si comprendono. Oppure, la cosa che ho sempre detto, è che differenza c'è a partire il parrucchiere, riaprirlo il 14 o il 18 e il primo giugno. Cioè, in quei 10 giorni che cosa può cambiare? Visto che ormai dal 4 maggio le comitive dei ragazzi scorazzano in tutte le strade, perché non andando a scuola, non dovendo fare compiti, giustamente. Sfogano, giustamente, forse per loro, non per quello che dovrebbe essere. Pensano a divertirsi. Da questo punto di vista, la gestione della ripartenza noi l'abbiamo duramente contestata per quelle categorie che hai citato. Per i pasticceri è stata una contestazione dall'11 marzo, praticamente, perché non mi spiego perché io posso entrare in modo contingentato, con tutte le precauzioni, dal panettiere, dal panificio, a scegliermi il pane che voglio, me lo incartano, me lo porto, e non potevo andare in una pasticceria a comprarmi il pasticcino, il cornetto, che sceglievo e me lo mangiavo fuori o me lo portavo a casa. Questa cosa non si è mai spiegata, non ce l'hanno spiegata, e siamo rimasti un po' colpiti da questa decisione inspiegabile del governo. Si è cercato di salvare il salvabile con il servizio a domicilio, ma non tutti l'hanno potuto fare, ovviamente non aveva certamente il servizio a domicilio, non ha dato gli stessi esiti a livello di ricavi di un'apertura normale, e però, insomma, stiamo ancora aspettando che tutto il sistema della ristorazione, quindi anche le paticerie, quindi anche i bar, possono tornare a lavorare normalmente. Il problema è che il normalmente sarà un normalmente molto diverso da un normalmente che noi siamo stati abituati da sempre a vedere. Devo dire che per conquistare, tra virgolette, per assicurarmi questa intervista, ho dovuto penare un po', ma non certo per cattiva volontà di Fabio Paolillo né di Confartigianato, ma perché tali e tanti sono stati gli incontri di Confartigianato con i vari iscritti, con i vari associati, con le varie categorie produttive che, ripeto, quotidianamente, giornalmente c'erano questi impegni. Oggi siamo riusciti a strappare così una mezz'oretta. E a questo proposito volevo così approfondire, volevo comprendere meglio l'apporto che Confartigianato ha dato ai propri iscritti, il supporto e l'assistenza in questi momenti, anche perché poi, oltre il riavvio, c'è anche una situazione che riguarda i dipendenti. E quindi delle misure di riduzione, tra virgolette, di cassintegrazione che riguardano appunto i dipendenti. Quindi l'imprenditore, suo malgrado, si è visto e si vede costretto a dover stringere la cinghia. Beh, ovviamente l'impegno è stato totale, perché così doveva essere, da parte di Confartigianato. L'impegno che è stato fatto da tutte le provinciali, quindi sia al nord che al centro che al sud, è evidente che Confartigianato è un punto di riferimento da sempre della stragrande maggioranza delle imprese artigiane, di alcuni commercianti, e quindi non abbiamo mai perso tempo, anche se una parte del lavoro l'abbiamo fatto in smart working, però comunque l'è stato fatto. Io ricordo la mia Pasqua e Pasquetta, ma non è una battuta passata a firmare e a sottoscrivere e a verificare accordi sindacali necessari affinché gli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle imprese artigiane fossero erogati. E questa cosa ha tenuto impegnato tutto il personale dell'associazione e devo dire, devo dare atto a tutti i presidenti di categoria che si sono messi a disposizione delle imprese, al presidente D'Amico che si è impegnato, è partecipato a tutte le riunioni in prefettura, a tutte le riunioni in camera di commercio, cioè praticamente abbiamo presidiato tutto ciò che era presidiabile addirittura conquistando, insieme ad altre associazioni, anche posizioni che prima magari c'erano precluse. Ovviamente, come suol dirsi, noi siamo sempre un territorio atipico, poi ci sono sempre certi muri che bisogna provare prima o poi a scalare e mi piacerebbe che fossero proprio direttamente abbattuti anziché farci fare lo sforzo di scalarli e anche perché poi speriamo di trovare qualcosa dietro questi muri, qualora fosse rimasta. Certamente rimangono in piedi sul territorio tutte le vertenze che c'erano fino al 31 dicembre, fino a metà gennaio, cioè non è che si sono risolti, si sono risolti, non ne abbiamo parlato più, non ne abbiamo parlato più perché siamo stati ingoiati da questa tempesta drammatica del Covid. Per fortuna non è esplosa in grande rilevanza sul nostro territorio. Questo può essere anche un merito del territorio stesso, dei cittadini, perché comunque, dal nostro punto di vista possiamo dire che sia le imprese che i cittadini comunque hanno assunto gran parte un comportamento abbastanza dignitoso e obbediente dei dettagli che ci sono stati dati. Ovviamente Luigi faceva riferimento alle casse integrazioni, le casse integrazioni c'erano pure prima del Covid e ce ne erano tante, a questi si sono aggiunti, però riguardavano il 99,9% la situazione della grande industria, ovviamente qui si sono aggiunte per la prima volta, perché poi non era uno strumento tipico che veniva usato nella piccola impresa o nell'artigianato, si sono aggiunte per la prima volta le casse integrazioni nella piccola impresa e questo è un segnale di evidente difficoltà, ma evidente difficoltà giustificata in tutto il mondo, immagino. Stiamo cercando di analizzare ovviamente la situazione e dal punto di vista, dall'ottica dell'imprenditore e dall'ottica, diciamo così, del dipendente. Questa mattina mi ero recato dal giornalaio e si parlava, io ho questa abitudine, nonostante tutto il coronavirus, due parole si scambiano comunque, seppur di sfuggita, con le debite di stanze, con tutti gli annessi e connessi, si parlava di queste misure del Cura Italia e si è avvicinato un ragazzo e un dipendente di un artigiano il quale ha detto io la cassa integrazione ancora non l'ho ricevuta. Poi, Paolillo, vedo molti imprenditori, soprattutto titolari di bar e di ristoranti, passatemi l'espressione, incazzati neri. Cioè, all'inizio, le belle parole del Cura Italia, il tono dolce, ammaliante di Conte, avevano, come dire, sedato le ire, avevano avuto una funzione quasi anestetizzante. Però poi, quando finisce l'anestesia e quando i soldini non arrivano a fine mese, il dipendente, l'imprenditore, perde le staffe. Bisogna stare attenti, perché anche lo stesso ministro degli interni ha detto, ci potrebbero essere delle tensioni sociali. Come poter negare una emergenza del genere? Non vogliamo essere catastrofisti, non vogliamo assolutamente incentivare alla rivolta, ci mancherebbe altro, manteniamo la calma, rispettiamo la democrazia, però dobbiamo anche capire il dramma di chi soffre. Beh, ovviamente ci associamo tutti, mi associo anch'io nell'appello a mantenere la calma, a restare calmi, anche perché, insomma, c'è il futuro, c'è, non è finito il mondo. Questo è importante sottolinearlo, c'è un futuro davanti a noi e dobbiamo cercare di percorrere nel miglior modo possibile e rialzarci. Beh, è evidente che questa esasperazione, chiamiamola così, degli imprenditori è assolutamente giustificata. non troverei un motivo per non giustificarla. È evidente che nel momento in cui si azzerano completamente i flussi di cassa, cioè, non ti entra più un euro davvero, non perché hai fatto uno scarso incasso o oggi ti è andata male, proprio non ti entra per settimane, non ti può entrare un euro, è evidente che ti comincia a mancare la terra sotto i piedi, cioè, cominci a pensare che tutto si stia sgretolando, che sta accadendo nel mondo addosso. È evidente che le spese rimangono, il proprietario del locale comincia a far vivo, mi devi pagare, le bollette sono arrivate lo stesso, il governo ha detto ti sposto la data delle tasse, ma me le devi comunque pagare, e tutta questa cosa crea ovviamente una tensione, una tensione nella testa dell'imprenditore che poi sfoga anche in famiglie, cioè, è tutta una catena di situazioni. Però questo è anche frutto, lasciatemelo dire, lasciatemelo dire, che è anche frutto di un vizio governativo, di una gestione non corretta dell'informazione, cioè, abbiamo rivisto un vecchio vizio quello dell'annuncita, no? Dice, un governo che ha proceduto tentennando, annunciando, poi smettendo, poi riannunciando, cioè, ha cercato di trovare sul consenso la dritta, però è evidente che, ripeto, se mi parli di tanti miliardi che vuoi mettere a disposizione e poi, ripeto, sul conto corrente non ti arriva, perché lo stesso bonus ancora non è arrivato a tutti, certamente è arrivato a tanti, ma non a tutti, quindi parliamo di chi non l'ha avuto in questo momento, sono passati tre mesi, non ha visto un euro, non ha visto un euro di incasso, non ha visto un euro dal governo e questo può essere un danno anche dal punto di vista della propensione al rischio, quindi della propensione a continuare a fare l'imprenditore. Noi, la nostra opera, la nostra opera come associazione è stata da sempre in questi mesi quella di indurre l'imprenditore e l'artigiano a ragionare, a non pensare per forza negativo nel senso che comunque poteva utilizzare questo tempo anche per rimodulare, riadattare la propria offerta, il proprio modo di lavorare, cioè pensare positivamente alla lavoro. So che è stato difficile, qualcuno lo ha apprezzato, ma non abbiamo mollato di un centimetro ed è giusto così. Dobbiamo innanzitutto cominciare a non smetterla di scrivere o di dire e di continuare a piancersi addosso. Questo non è più il momento, abbiamo visto cosa è accaduto, abbiamo pianto i nostri morti, questa forse è la cosa più brutta ovviamente che è accaduta, però adesso bisogna guardare avanti cercando di non ricascare, di non ricadere nella stessa cosa ma guardare avanti con dignità perché il piccolo imprenditore e l'artigiano non muore, non lo butta giù il virus l'artigiano l'artigiano in qualsiasi modo si riadatta è sempre stato così nella storia e sarà anche stavolta così però va aiutato va aiutato concretamente cioè se dici una cosa gliela devi dare se puoi evitare di togliergli una cosa fallo perché poi l'artigiano è quello che ti paga le tasse è quello che ti tiene illuminata una città ti tiene attiva una città le famiglie quindi artigiano di servizio artigiano di produzione cioè immaginate quante cose noi tocchiamo mangiamo viviamo ogni giorno che sono fatte da artigiani pensate se non ci fossero più gli artigiani come sarebbe la nostra vita e questo è importante per dargli un futuro e un futuro di attenzione cioè quello ormai è accaduto e quindi adesso rimescoliamo le carte partiamo tutti allo stesso livello perché 100 artigiani che hanno 100 dipendenti equivalgono a un'impresa che ha 100 dipendenti però quelle sono 100 famiglie di artigiani che hanno 100 dipendenti che sono 100 famiglie e dobbiamo trattarle allo stesso mudo c'è stata poi un'altra beffa un'altra presa per i fondelli perché la gente quando ha sentito Conte in tv i suoi monologhi i suoi conferenze stampa io così anche per sdrammatizzare ho detto siamo passati dalla telenovela il segreto a quella il decreto e questo prestito che veniva fatto agli imprenditori 25 mila euro era stato così propagandato quasi fosse un bancomat tu vai schiacci vai in banca e dici buongiorno datemi 25 mila euro e hai i 25 mila euro senza considerare poi che altro non è se non un indebitamento perché non è certo un contributo a fondo perduto poi l'imprenditore che non può pagare voglio vedere come deve restituire quei 25 mila euro mi pare nei sei anni ma al di là di questo poi si è visto che le banche giustamente devono salvaguardarsi devono fare la parte loro e c'è tutta una certa procedura c'è tutta una serie di requisiti per poter accedere a questi 25 mila euro e in molti casi viene negato perché si guardano tutta una serie di parametri perché si guarda il fatturato e quant'altro io lo devo dire perché a me non piace mentire perché anche io sono una partita iva e quindi a un certo punto uno ha visto questa storia del prestito come lo percepisci come fumo negli occhi ma poi quando il fumo la nebbia si dirada ancora una volta riemerge la rabbia riemerge il senso di dire sono stato fregato questo è quello che io percepisco in giro all'inizio abbiamo vissuto esattamente anche noi come confartigianato con la stessa impressione cioè quando noi tutti abbiamo chiesto liquidità noi abbiamo chiesto liquidità ma non solo in questo modo cioè è evidente che a un imprenditore per risollevarsi c'è bisogno di liquidità come un prestito ma c'è bisogno anche di tempo e danaro per ripartire cioè se io devo fare un ordine devo ricostruirmi il laboratorio sai quanta gente ha buttato via merce perché l'ha tenuta ferma un mese sai quanti geni alimentari sono stati buttati perché scaduti in questo momento e non potevano essere utilizzati questi non glieli paga nessuno c'è nessuna assicurazione che gli può pagare una cosa del genere è evidente che il governo ha mancato in una cosa fondamentale quelle che abbiamo visto fare in altre in altre nazioni cioè era il momento di prendere non una grande cifra una cifra adeguata non grosse cifre ma metterle sul conto corrente di un'impresa ovviamente vedendo innanzitutto se esiste davvero quell'impresa ma se esiste e sta in quelle difficoltà il governo avrebbe dovuto mettere una cifra su quel conto corrente poi ha fatto questa misura se noi andiamo a vedere questa misura è una misura che deve essere a mio parere a nostro parere vista come un'opportunità perché comunque è un prestito di fino a 25 mila euro poi ci sono altri altri parametri per arrivare anche a 100 mila però fino a 25 mila euro garantito al 100% dello Stato tu il preditore vedila anche come opportunità perché se devi cambiare in prospettiva hai un mezzo da cambiare un'attrezzatura da cambiare intanto tu lo prendi perché ti serve per liquidità però queste condizioni sarà difficile poterle avere in un momento normale però come invece c'è stato prospettato sembrava come dicevi giustamente tu Luigi come se fosse la paracica che doveva risolvere tutti i mari è un debito è un debito tra l'altro con il suo percorso per ottenerlo è un percorso ancora molto accidentato in determinati istituti bancari proprio stamattina abbiamo saputo che c'è l'abbiamo sentito proprio da Radio 24 che c'è una parte di banche che ancora non che si rifiuta ma ha un meccanismo particolare che non è ancora che non è ancora partito ci sono ancora quelli che non sanno se sono convenzionati o meno cioè è il colmo questa cosa non va bene va giustato visto che il governo vuole avere notizie in tal senso il confartigianato gliele sta trasmettendo giornalmente perché giornalmente abbiamo segnalazioni di banche che funzionano e banche che non funzionano confartigianato è intervenuta addirittura sostituendosi nell'assistenza nel senso che noi abbiamo avuto la possibilità di poter attivare tra l'artigiano e l'artigian cassa un collegamento tra loro per far sì che in pochi giorni mandandogli la documentazione e quindi in modo telematico si possono ottenere o quantomeno sai con certezza se li puoi ottenere o meno questi fondi ovviamente non è la compagazione non è una banca quindi non è che però ci siamo attivati anche per questo noi stiamo abbracciando questa problematica a 360 gradi adesso aggiungo un'altra cosa è il momento anche di adeguamenti gli adeguamenti il messaggio che noi stiamo dando cari artigiani cari commercianti state attenti perché il mercato vi sta proponendo soluzioni e proposte fatte scientifiche non ci sono ancora per esempio delle direttive certe in alcuni settori e c'è chi invece te le manda e te le manco se fossero loro che le devono fare a costi incredibili quindi questo è il momento della calma della riflessione sentitevi con i vostri commercialisti questo è il momento per chi non ce l'ha di riallacciare il buon rapporto col proprio consulente col proprio commercialista consulente del lavoro sono lì per questo sono persone preparate che lavorano per questo sentitevi anche con le associazioni con la vostra associazione sentitevi con la confartigianato se volete o dove volete le associazioni sono nate per collaborare anche con i vostri consulenti però non è il momento di buttarvi a soldi perché non ce ne sono gli adeguamenti devono essere fatti per bene non bisogna non bisogna credere assolutamente alle proposte fantascientifiche consultatevi però adeguatevi perché poi all'inizio non ci sarà un controllo massiccio però è evidente che poi se dovesse succedere qualche cosa si paga di tasca propria per concludere Paolillo un'ultima così riflessione abbiamo visto che nel momento in cui dovesse risultare positivo un dipendente quella verrà catalogata verrà inquadrata quella fattispecie come infortunio sul lavoro è una situazione un po' particolare perché il dipendente consideriamo il dipendente di un artigiano va a bottega e sta magari otto ore al giorno però le altre sedici ore della giornata sta altrove sta in famiglia e quindi questa situazione dell'infortunio può diventare un ulteriore peso un ulteriore gravame sull'imprenditore è una normativa molto così come dire impostata male perché vuole tutelare il dipendente ed è giusto tutelare il dipendente però non si può per tutelare il dipendente affossare l'imprenditore il quale in molte circostanze può non essere affatto responsabile del virus eventualmente contratto dal dipendente Silvio Luigi hai toccato proprio un tema importante che il confrattigianato ha affrontato proprio in questi giorni sì siamo a un paradosso che è molto pericoloso nel senso che come hai detto tu il covid è stato classificato come un ambiente di lavoro come un infortunio nel lavoro cioè nel senso che se il il lavoratore dipendente viene quindi segnalato come malato di covid deve potrebbe essere classificato come l'involuzione di lavoro se non si riesce a dimostrare che quella malattia non l'hai presa al di fuori dell'ambiente di lavoro quindi il fastidio è poco come si dice non è poco il fastidio nel senso che si crea un contenzioso perché quando tu dipendente mi viene la mattina non è che vieni con un tampone in mano dicendo guarda io sto bene sto entrando a lavorare tamponi non se ne fanno non se ne possono fare neanche non è che puoi montare smontare con il tampone è evidente che questa responsabilità ulteriore che viene data al datore di lavoro mina un po' la tranquillità e la serietà dello stesso perché non può deve costantemente preoccuparsi dello stato di salute del dipendente stato di salute che può essere o mascherato perché il dipendente non te lo vuol far capire o perché il dipendente è asintomatico essendo asintomatico non lo saprai mai poi se quel dipendente è o non è malato di covid e questi io mi auguro che appunto a livello nazionale si ponga fine si ponga rimedio a questo a questo discorso perché non vorrei che aumentassero i contenziosi e quindi poi diventa anche fastidioso dover pensare che i lavoratori che il che l'imprenditore possa farne a meno di collaboratori perché il gioco potrebbe non valere più la candela da questo punto di vista bene una lunga chiacchierata a 360 gradi abbiamo toccato molti argomenti abbiamo toccato anche dei nervi scoperti per così dire beh con con artigianato e con il segretario Paolillo avremo modo di confrontarci di seguire fase per fase questa uscita dal coronavirus fase 2 poi vedremo fase 3 poi vedremo cosa succederà dal primo giugno e comunque così l'appello a non mollare la guardia a rispettare le normative perché proprio questa mattina chiudo davvero ero in via d'Aquino e vedevo alcuni ragazzi e ragazze che portavano questa mascherina in mano quasi fosse una borsetta beh insomma cerchiamo di non vanificare gli sforzi nell'interesse di tutti beh io Luigi ringrazio come al solito te per la tua ampia disponibilità e per la tua dedizione sul territorio questo è importante e va evidenziato nell'ingraziarvi e nel salutare tutti i telespettatori faccio un piccolo un ultimo piccolo appello a tutti non tutti siamo consumatori noi tutti siamo utilizzatori e compratori di merci questo è il momento di far ripartire i vari territori io vedo da altre parti come si stanno organizzando si stanno organizzando con il chilometro zero cioè stanno spingendo i clienti i consumatori a comprare i prodotti del territorio beh facciamo non facciamo sempre la parte degli ignorri questo è il momento di dare la forza a Taranto dare la forza a chi occupa i propri figli cioè i nostri figli lavorano sul territorio lavorano dal panificio lavorano in tanti altri stagli diamo forza a questi imprenditori comprando i loro prodotti in questo momento non è non la prendiamo non è una guerra che poi sarebbe una guerra tra poveri ma in questo momento particolare ognuno darà sicuramente ogni territorio darà forza al proprio al proprio sistema facciamolo anche noi non giriamo la testa dall'altra parte scendiamo di casa non prendiamo la macchina per andare in qualche parte lontana dove magari c'è il parcheggio dove magari è più facile scendiamo di casa e compriamo sotto casa quello che ci serve e sono certo che anche l'imprenditore il commerciante l'artigiano lo comprenderà e adeguerà la sua offerta alle possibilità di tutti grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti